Secondo me donare vuol dire essere se stessi. Il dono in questo senso è anche un manifestarsi, manifestare anche magari la propria umanità. Ho conosciuto quindi un po' di me stesso. Mi ha risvegliato e rivitalizzato anche il modo di pensare che in un certo qual modo era sedimentato in me. Ha tirato fuori una vecchia parte di me un po' quasi forse addormentata che aveva voglia di fare, voglia di cambiare, di rispettare e valorizzare il proprio territorio ma perché poi si è un po' scontrata con le dinamiche della società. Quello che mi ha cambiato è di conoscere quello che c'è. Guardavo soltanto un pezzettino di quello che era la realtà. Invece adesso la cooperativa, perché io lavoro in una cooperativa, la guardo nella sua interezza, nella sua complessità e questo mi permette di guardarla anche nel futuro. Grazie a tutti!